Buongiorno fioi buongiorno a tutti allora Sottolinei commenti ragazzi che belle cose scrivete bene è solo con dentro C'è lasciamo perdere ragazzi lasciamo perdere siamo lì perché non non voglio tanto di Perché tanti mi dicono che non sono capace a parlare di calcio che è meglio che mi metto a parlare di qualcos'altro non sei non sei capace Lo so sei vecchio e ragazzi Ragazzi così sono Ragazzi non Non cambio Così sono fare video se gli altri se le altre persone Vi comoda così a posto e sono ragazzi sono altri canali Ragazzi io accetto tutti commenti tutto quanto basta che non Non offondere basta che non Non offendete Mi basta solo quello Comunque ragazzi Tralasciando queste piccole sciocchezze queste piccole Cose qua perché ragazzi sono semplici RONALDO E tanti mi dicono che non sono tanto capace a parlare di calcio però Però questo canale è improntato solo a questo Dopo se avete qualche 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 cosa che per voi sarebbe meglio che cambiasse Però Difficilmente Perché ragazzi non sono Non sono Non ho tanti Idee per fare chissà cosa eh Io butto L'idea faccio E basta Non è che è il posto RONALDO 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 Te fai bene? Te fai bene con il Porto Gaio Tripletta E non ti si può fare niente da noi altri Qua Iube Chissà perché Chissà perché Ma Ehm Allora Tanti Tanti critica Sarri Anzi Mi e D'Oroso A Sarri Però tanti critica Sarri perché Che È meglio Che Che Abbia fatto stasso sostituzione qua Ti per Ronaldo perché Ha bisogno di Perché Gabbia bisogno di avere Tranquillità per fare Il Per andare a giocare il nazionale il nazionale Bene Allora, Ronaldo, non ti puoi a dire che non ti è infortunio. E ora? Ti toghi in giro tutti e ora? E ora? Cosa sa e nega tutto? Dicendo che non sa e presuppone che abbia qualcosa. E ora? Ti vai in nazionale con il portogallo e ti fai trebletta. E ora vuol dire che ti stai bene? E ora vuol dire che c'è qualcosa che non va qua a Juve. Vuol dire che c'è qualcosa che non va. Bene. E ora? Perché non ti rendi qua a Juve? Perché non ti rendi qua a Juve? Perché non ti rendi quel spazio che la squadra e l'allenatore chiede? Può darsi che non ti sei tanto predisposto per Juve come gioco. come come modo come modo per mettersi per metterti in campo perché neanche a Sarri più di tanto è tenta di anche di metterti in campo però però Aronaldo anche a ti non ti puoi pretendere che il gioco è parte tutto da ti bisogna anche che te colleghi che te collabori anche qualche altri qualche altri però giocatori eh non so ti sei nazionale nazionale e ti giochi ti giochi così senza 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 che ti chiedi qualcosa è bastante cioè ti giochi ma non te che niente e invece qua Juve te 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 vuoi che te avevi che te avevi qualcosa che te avevi qualcosa però non si sapeva se se vi era infortunio se 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 oppure oppure che sei qualcosa che sei qualcosa con Sarri perché se sa se sa che che con Sarri non ti avevi tanto d'accordo eh e tanti e e ora paratici Perché parte tutto da paratici. Perché? Perché paratici? Perché ti è tolto Ronaldo. Perché ti è tolto Ronaldo per fare cosa? Per fare business? Per fare cassa? Per aumentare i valori del brand? Adesso ci speriamo che quando Ronaldo tornerà che si mette in testa deve giocare con la squadra. Però non vediamo tanto centrocampisti. E' quel problema. Non vediamo tanto centrocampisti che e tira su le redini di gioco per avere un centrocampo fluido che scambia palloni. Ma non c'è neanche colpa non c'è neanche colpa da Ronaldo se gioca così. E ora mi domando che tutti tutti Ronaldo per voi quanto resterà all'Aventus? Punto di domanda. Tanti dicono quanto rimarrà Sarri all'Aventus? Per me ragazzi non durerà tanto Ronaldo all'Aventus. Perché se ha se ha questi atteggiamenti con Sarri perché ricordiamo che Sarri comanda non Ronaldo. Ma a me non sto neanche a a a dirvi a dirvi perché ovviamente è la verità che comanda Sarri. Però Ronaldo se se vuoi fare se vuoi fare parte di questa squadra devi abituarti anche di essere sostituito perché sei un giocatore normale. Inutile che vai nazionale e fai queste prestazioni qua che alla Juve non fai. E noi oventini ci aspettiamo questo che tu rendi anche il campionato che a questo punto non vediamo. Ok? Boh da posto. Ragazzi se volete iscrivetevi al canale però la maggior parte si disiscriveranno dal canale perché vedono vedono che non che non rendo tanto. Vedo anche io che sono mezzo sfigato che faccio video di 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 faccio video di che non rendo tanto perché non sono tanto esplosivo ma sono come gli altri youtuber che tentano un po' rendersi simpatico ho anche ricevuto un commento sei simpatico va bene ok però ragazzi così sono ragazzi ognuno si timbra a sua persona mi non mi non non mi non mi rendo un personaggio perché non vai neanche appena ad essere un personaggio ok se volete iscrivetevi se volete iscrivetevi al canale tranquillamente però ragazzi non pretendete che sia uno uno compagno uno uguale di voi eh ok ragazzi anche difficile per me esprimermi davanti alla welcome davanti al telefono davanti davanti a voi perché voi voi guardate il video dopo voi esprimete un vostro pensiero però io accetto tutti basta non offese basta non offendere va bene ragazzi noi ci sentiamo e al prossimo video e mi raccomando Ronaldo fate valere diventa un esempio per la Juve perché ne abbiamo ne abbiamo bisogno e non montarti a testa e non montarti a testa mi raccomando va bene ragazzi se sentimo e scusami se per caso va il betto mi 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 non so non so una macchinetta a parlare ok ragazzi guardate se sentimo e niente boh va bene sempre forza Juve ragazzi è a posto ok già tutti ragazzi e sempre forza Juve non so non so